buongiorno a tutti oggi a differenza diciamo delle altre puntate ho avuto l'idea di proporre un aspetto un pochino più pratico della ricerca una metodologia che possiamo applicare specificatamente a questi giorni perché è legata agli equinozi come pure a tutti i momenti diciamo di passaggio che sono analoghi all'equinozio per esempio durante la giornata al momento del tramonto quindi quindi una meditazione che chi avrà piacere di farlo può svolgere appunto in un'occasione di equinozi oppure durante la giornata nel momento del tramonto che poi può essere anche più facile adesso andando verso diciamo l'estate con un tramonto un po più tardo siamo tornati a casa magari no dal lavoro nostri impegni quindi possiamo prenderci anche un momento diciamo di relax e di introspezione così via questa pratica data ormai più di 20 anni fa quando venne edita la prima volta è una pratica che si rivolge alla purificazione sia individuale che a quella dell'aura terrestre questi giorni vediamo continuamente citato il tema dell'inquinamento dei problemi ecologici tante altre situazioni veramente pesanti che si stanno creando e oltre tutto quello che è l'aspetto esteriore che può essere di tipo politico sociale sociologico culturale quant'altro dal punto di vista dell'osoterismo questo invece un tema che è perennemente presente cioè l'alterazione dell'equilibrio della nostra terra degli elementi e quant'altro quanto di più lontano ci può essere dal pensiero esoterico e spirituale quindi in questo campo nel tempo sono state proposte tante metodologie per operare sia a livello individuale ma anche a livello collettivo per contrastare questa deriva ma su un piano più elevato su un piano di ordine spirituale su un piano astrale e quant'altro in particolare appunto vent'anni fa orzono venne reso accessibile questo metodo di meditazione che è stato creato come pratica interna di un ordine iniziatico estremamente importante però per questa diciamo particolare prassi meditativa come per altri strumenti venne resa accessibile in rete una versione che può essere tranquillamente usata da chiunque ne abbia la volontà e il piacere di farla e quindi questa che sarà proposta in questa meditazione ritroviamo tanti temi che abbiamo trattato sia nel secondo ciclo di conferenze per quello che riguarda per esempio la magia sia nella parte della della rubrica magia del fare per quello che riguarda il rapporto con gli elementi lo spazio sacro l'uso della voce del gesto della parola e così via ritroverete via via molti elementi condensati in questa pratica è una pratica che è divisa in una sezione introduttiva che è quella che riguarda lo spazio sacro quindi con l'uso della luce dell'incenso e quant'altro una pratica di auto purificazione che comprende l'uso del salmo 50 che siamo per eccellenza della purificazione 50 in latino 51 in italiano e l'uso della meditazione sulla fiamma viola che è molto conosciuta nel diciamo specialmente negli ultimi anni con la diffusione delle meditazioni legate a questa metodologia però importante capirne l'origine l'origine di questa pratica è legata a quello che era il movimento del lagni yoga lo yoga del fuoco che venne portato diciamo a conoscenza del mondo occidentale da nicolas rerich basandosi anche su particolari insegnamenti di elis bailey fece parte anche del bagaglio della scuola della medicina vibrazionale negli anni 50 a questa diciamo struttura si è unita 50 60 anche tutta la linea di pensiero riferita a saint germain come maestro asceso in quanto maestro del settimo raggio secondo appunto la struttura della scuola arcana e quindi per esempio della magia cerimoniale della pratica teurgica quant'altro quindi questa prassi deriva da questi due input uno diciamo di tipo orientale e uno di tipo occidentale questa fiamma è viola in quanto composta dai due colori il blu e il rosso che rappresentano il fuoco e l'acqua ma nel senso archetipico cioè fuoco primordiale acqua primordiale quello che nel taoismo operativo è chiamato can e li quindi si tratta di un lavoro di trasmutazione alchimica tra purificazione trasformazione e meditazione trasmutatoria di tipo alchimico che può essere usata sia personalmente che invece per una prassi esterna come la seconda parte della meditazione in cui viene usata quindi abbiamo un introduzione spazio sacro un'auto purificazione secondo stadio terzo stadio il lavoro sulla terra sugli elementi sugli esseri viventi poi ovviamente la conclusione della meditazione stessa altra cosa importante quando si pratica la fiamma viola non bisogna immaginarla semplicemente con un atto mentale ma si tratta di una invocazione di uno stato superiore dell'essere qui è molto importante conoscere gli insegnamenti dell'io sono no della linea di saint germain perché quel io sono corrisponde cabalisticamente alle ie cioè alla corona dell'albero della vita è il fuoco del rovetto ardente che musè incontra sul monte sacro che corrisponde poi alla epifania dell'arcangelo metatron quindi è una cosa molto seria non è un gioco quindi non si tratta di una nostra immaginazione di una nostra fantasia ma è la invocazione in questo caso del potere dell'unità trascendente della corona di keter che si manifesta come il fuoco del rovetto di fronte a musè ci sono varie metodologie che possono essere usate per evocarla si può pensare che questa fiamma sgorghi dal centro del nostro cuore si diffonda e vedremo una meditazione che supera la nostra persona raggiunge l'ambiente così via tutto quanto possiamo pensare come in altre prassi che sotto il nostro sedile per esempio ci sia un bracere un bracere molto caldo da cui nel momento in cui noi invochiamo questa fiamma questa divampi e compie a questo lavoro e così via è una fiamma dinamica non bisogna pensarla semplicemente come se brucia verso l'alto ma quando si tratta di in questo caso purificare a un moto a spirale anti orario perché spelle quando invece dobbiamo attrarre qualcosa di positivo in virtù di questa meditazione la rotazione deve essere concepita come oraria il colore viola è dato ripeto come sintesi ma bisogna tenere ben presente le due qualità il blu e il rosso perché al rosso è affidato il compito di bruciare tutto ciò che negativo tutto ciò che scoria che impurità eccetera il blu ha il compito di rigenerare ciò che è stato purificato cioè una volta che è stata tolta una scoria sempre dal corpo da un elemento esterno in questo caso da terra eccetera il blu ha la funzione di rigenerare positivamente perché sennò sarebbe un atto solo distruttivo quindi questo avviene nel tempo mano mano che si usa sentire questo è molto importante quanto rosso ci vuole e quanto blu ci vuole la sintesi è sempre il viola ma diciamo è come se avessimo una successione partiamo dal colore intero lo lasciamo lavorare vediamo quanto a contatto con l'oggetto della purificazione si manifesta di rosso o di blu può essere anche per esempio come accade a volte dei guizi arancioni un colore anti armeri c'è tutta la sfumatura però ecco ripeto questo vi dà anche la misura che non si tratta di una fantasia personale ma che state veramente lavorando con l'energia non bisogna attenzione questo altro fattore importantissimo proiettare i propri desideri le proprie idee sulla fiamma viola perché poi se sono sbagliati si amplificano bisogna lasciarla lavorare il io sono di cui parla san genna e lei è l'unità divina non è l'io per la personalità nel piccolo ego attenzione io maiuscolo sono egli è rascere gli è questo parliamo sempre bisogna ricordare molto bene quindi con grande fiducia lanciare la fiamma lasciare lavorare sentire bene che cosa accade anche attraverso appunto il cromatismo dei colori dinamizzati e portare a termine quindi la meditazione nella parte di auto purificazione abbiamo un lavoro su noi stessi sul nostro ambiente che ci circonda poi avremo una seconda parte in cui questa energia viene proiettata sul pianeta terra questo viene fatto visualizzandosi pensando sufficiente non è un esercizio complicato è sufficiente pensare come di essere nello spazio e di vedere il pianeta terra di fronte a noi intorno a cui questa fiamma appunto in senso anti orario no brucia tutto ciò che è negativo fame guerre disperazione dolore tutto quello che male viene arso come scoria e poi viene rigenerato possiamo pensare in quel caso una rotazione oraria mettendo nella terra nell'aula terrestre per il campo alico si lavora tutto quello che è positivo quindi amore saggezza compassione luce tutto quello che volete di positivo questa pratica lo dico perché a volte la vista su youtube spacciata come pratica segreta di non si sa che di ordine quant'altro è una pratica di origine indiana questa pratica in sanscrito si chiama isvara pranidan cioè il porsi come la divinità isvara che dà vita alle cose che insuffla la vita le cose è come il dio brama che espirando le crea e le governa attraverso visno poi risolve alla fine come scive così via isvara pranidan è lo sguardo del creatore potremmo chiamarlo così del signore esiste nella tradizione di alcune scuole tantriche indiane esisteva anche come pratica interna di livelli superiore della meditazione trascendentale così via però è una pratica tradizionale antichissima e non è il segreto di pulcinella di qualche youtuber che dice che poi queste cose sono insegnamenti segreti non si sa che no non è così è anche un ottimo esercizio a cui ci si può abituare fare riferimento in momenti particolare stress perché ci aiuta a creare proprio distanza letteralmente quando noi vediamo le cose da così lontano sono meno opprimenti sono meno lessive sono meno dolorosi e possiamo sempre attraverso la pratica della fiamma viola lavorare su questi problemi che siano interiori che siano esterni così via in questo caso specifico ci riferiamo appunto a un problema che ci coinvolge tutti perché sulla terra ci stiamo tutti cioè non è che viviamo su marte le preghiere e la struttura sono ispirate alla tradizione cabalistica che si è sviluppata in europa nel secolo diciottesimo ci sono dei riferimenti ben precisi nella sua origine al lavoro teurgico che era sviluppato nei circoli esoterici dell'epoca in particolare al grande teurgo don martine de pascalì fondatore dell'ordine degli eletticoni cavalieri eletticoni dell'universo e quant'altro ad altre fonti che sono legate per esempio ad insegnamenti sulla natura mistica del creato che vengono da jacob o da paracels e quant'altro ci sono molti contenuti non è importante conoscerli tutti ma sapere bene che questo tipo di operatività a un retroterra estremamente solido è stato messo in una forma accessibile però ha una sostanza molto molto forte al suo interno molto concreta e fondata proprio su tradizioni molto antiche e quindi adesso procederemo alla diciamo meditazione guidata di questo testo se volete potete usare la registrazione come guida se ritenete che vi sia utile comunque non c'è problema perché il testo sarà messo con un apposito link nell'info box e quindi da lì lo ve lo potete scaricare tranquillamente e lo adattate ovviamente anche ai vostri tempi noi adesso utilizzeremo un tempo medio semplicemente per esigenze diciamo di registrazione ma potete concentrarvi singolarmente su ogni parte o dedicare a ogni parte di questa meditazione il tempo che riterrete utile opportuno e giovevole per voi quindi iniziamo il primo atto per esempio è accendere una luce accendere una luce basta una piccola candela e a questa luce noi riferiamo la presenza dei maestri ascesi quindi non è che cooperiamo in modo sconnesso ma ci riferiamo ai maestri ascesi ai maestri passati a quelli che hanno preceduto come abbiamo detto nella puntata dedicata a maestri passati tutti noi sul cammino e che sono andati oltre il vero della morte portando con loro un seme di realizzazione e quindi credi chiediamo con questo atto la loro presenza e la loro assistenza ecco questa è la forma nel testo che troverete in descrizione c'è un montaggio ancora più preciso che ho dovuto estrapolare dal testo originale comunque la forma adatta diciamo a una recitazione diffusa è stata appunto editata in modo corretto questa è la meditazione sulla fiamma viola relativa appunto ai momenti delle gli equinozi ai momenti di transito abbiamo visto la pratica personale e del proprio ambiente abbiamo visto come si crea lo spazio sacro abbiamo visto l'uso della luce dell'incenso come avevamo detto nel video sugli elementi così via potete appunto ritrovare tecnicamente molti di questi passaggi e soprattutto l'enfasi posta sulla natura di questa forza anche nel salmo finale ecco e l'interazione specialmente chi diciamo si dedica alle meditazioni sulle forze angeliche che oggi sono molto diffuse con queste nature luminose elevate e come ci si deve rapportare con loro come si devono congedare in modo giusto e questo ci serve a ricordare che il nostro posto per quanto dal punto di vista iniziato e questo tecnico può essere formalmente importante è sempre l'ultimo posto della scala celeste sopra di noi c'è un'immensità c'è un cosmo di forze vive di forze spirituali immense a cui dobbiamo il massimo rispetto a cui dobbiamo rapportarci con serenità con equilibrio con purezza e lasciare che la loro saggezza infinitamente superiore alla nostra agisca specialmente quando andiamo a trattare delle problematiche così importanti così serie e a volte così gravi come quella per esempio della tutela della nostra terra del nostro ambiente quant'altro di cui peraltro non siamo altro che una cellula il paradosso della meditazione dell'io sono in generale è che appunto assorbendosi nel punto centrale dell'albero della vita che è il punto di emanazione nel keter in cui la milagrana sacra si dischiude dobbiamo per forza passare sempre per dat quindi per la cessazione della personalità quindi per quanto noi abbiamo con il tempo sviluppato capacità abilità di tipo magico teurgico meditativo quello che volete tutto questo non è altro che un training per prepararci a questo passaggio in una dimensione in cui tutti gli aspetti della personalità della mente delle emozioni quant'altro cessano e solo a questa condizione possiamo pensare di ritrovare l'unità con la fonte di ogni cosa lo stato che trascende ogni dualismo ogni particolare distinzione ogni apparenza ogni illusione poi di questo sempre trattiamo come materia quindi oltre l'utilizzo pratico di questo tipo di meditazione di altri tipi di attività di tipo spirituale bisogna considerare tutto questo come uno dei mezzi per raggiungere sempre questo fine non ci sono coppe medaglie trofei premi per questa attività se non quello più ambito che la pace del proprio spirito l'armonia laddove si possa manifestare cosa peraltro oggi rarissima e la serenità tutto quello che ci può dare la vita di buono è un riflesso di quest'unità tutte le prove che dobbiamo superare sono il ricordo dell'urgenza di intraprendere la via e portarla a compimento in un certo senso la vita è qualcosa di molto semplice veramente molto semplice ma abbiamo una capacità incredibile di complicarla da noi stessi meditare su questi principi elevati e affidare tutta questa confusione queste molteplici fantasmagorie tutte queste proiezioni alla fiamma viola è un buon sistema purificare vuol dire fare con il fuoco ecco affidando allo spirito divino al fuoco del roveto guardante tutto ciò che è inferiore limitante tutto ciò che ossessione frustrazione delusione aspettativa autoindotta di qualche cosa che non è altro che un rafforzamento dell'io non è altro che una proiezione di un superio narcisistico o delle nostre paure perché anche di questo viviamo è un buon sistema per allenarci a lasciare la presa quindi considerate l'aspetto ultimo di questo tipo di meditazione che appunto il superamento dei limiti dell'individualità della mente separativa e poi anche quelle che possono essere le normali applicazioni che come in questo caso hanno per oggetto questa attività di purificazione laura terrestre la parola ebraica refuach rappresenta appunto la guarigione in un senso totale assoluta e relativa come abbiamo detto fino adesso possiamo operare efficacemente nella misura in cui noi abbandoniamo la nostra presa sull'io più noi ardiamo più noi scompariamo più il fuoco che viene generato dalla preghiera e dalla meditazione è potente è efficace e raggiunge il suo scopo più noi invece al contrario poniamo separatività conflitto proiezione ideazione e quant'altro tra noi e l'oggetto pure con le migliori intenzioni vogliamo fare qualcosa per il nostro pianeta per l'ambiente per le persone e più queste pratiche falliranno perché avremo interposto un filtro impuro un filtro sporco che contamina il nostro lavoro è il fine di tutte le vie tradizionali ne abbiamo parlato altre volte ne continueremo a parlare se appunto si darà il caso ma è il leitmotiv che sta dietro tutta la tradizione l'iniziazione e quant'altro quindi invito a chi avrà il piacere e la volontà di praticare questa meditazione a non dimenticarlo mai a non lasciarsi limitare per quanto possa divenire nel tempo potente affascinante un metodo di pratica che è semplicemente una barca per attraversare il fiume come insegna il Buddha una volta giunti all'altra sponda la barca si lascia si abbandona nessuno arrivato all'altra sponda si carica la barca sulla spalla e se la porta dietro questo deve essere lo spirito con cui si pratica la meditazione o comunque una ritualità o quant'altre cose il contatto con un'energia più elevata ha anche un altro vantaggio il vantaggio di farci perdere come diceva Don Kuan Gastaneda il senso dell'importanza personale perché quando se si fanno queste meditazioni con continuità nel tempo si avverte molto presente la dimensione delle potenze che ci trascendono e si superano e così perdiamo l'idea di essere speciali di essere mistici di essere magici e quant'altro tutte queste sciocchezze e ci rendiamo conto di fare parte di una buona squadra questo sì di poter lavorare bene ma rimanendo umili non nel senso stupido del servilismo della finta semplicità o del politically correct esoterico no? cioè il mito dell'umiltà di essere buoni non è questo è che quando si ha a che fare realmente con una dimensione superiore più elevata come si suol dire si abbassa automaticamente la cresta e abbiamo anche la misura di quanto abbiamo lasciato la presa sul nostro io perché questo richiede uno stato di totale fiducia di uno stato di totale apertura uno stato di abbandono l'abbiamo citata molte volte continuo a farlo come disse la madre la shakti di Shea Aurobindo tutto il sentiero è solo arrendersi tutto qua questo deve essere inteso come uno strumento per imparare anche ad arrendersi soprattutto questo più noi lo facciamo e più questa forza che noi chiamiamo ad agire per il nostro bene quello degli altri agisce in questo tipo di meditazione rito quello che volete è sempre la stessa cosa non c'è una via che sia realmente tradizionale valida che non si fondi su questo quindi con questo spirito diciamo abbiamo fatto questo video spero che mi possa piacere che mi possa essere utile e appunto nell'info box trovate il link per scaricare il testo ve lo potete registrare se non siete abituati molto a meditare con i vostri tempi con la vostra sensibilità un consiglio è di leggerlo più volte cercando di focalizzarsi con attenzione sulle singole parti che lo compongono in modo da avere ben chiaro il concetto che sta alla base di ogni singola sezione e meditativamente assorbirlo non deve essere un atto esteriore un pur parler non sono parole magiche se non c'è consapevolezza del senso e adesione interiore a quello che si dice non funziona nulla ok viceversa se con intenzione con purezza di cuore con amore vero e quindi con disinteresse pratichiamo questi metodi allora siamo sul sentiero ecco questo mi è sembrato giusto farlo anche perché purtroppo molte metodiche che erano anche accessibili alle persone o che erano state in diverse situazioni studiate approntate perché potessero essere di beneficio anche delle persone che non formalmente aderivano a istituzioni ordini o comunque a scuole iniziatiche e quant'altro potessero diciamo beneficiarne molte volte sono rimaste quasi sconosciute dimenticate e quant'altro e appunto ritrovando tra i vecchi fogli da rimettere ogni volta a posto questa meditazione mi è sembrato che fosse una buona cosa condividerla con voi che siete gli ascoltatori del canale ecco spero che veramente vi piaccia e vi possa essere utile grazie namaste grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti